io non ho mai fatto le melanzane d'agrodolce ed oggi voglio provarci con voi, siete curiosi? iniziamo! allora per prima cosa ho l'olio extravergine di oliva in un tegame, mettiamo uno spicchietto d'aglio tagliato a fettine e lo facciamo dorare leggermente, bene quando l'aglio sarà leggermente dorato mettiamo le melanzane tagliate a bastoncini così abbassiamo un po' la fiamma mescoliamo e a fiamma medio-bassa mescolando frequentemente facciamo cuocere per 20 minuti passati 20 minuti mettiamo il basilico spezzettato a mano le foglioline di menta che profumino mescoliamo bene così ora metto lo zucchero alzo un po' la fiamma metto l'aceto e faccio evaporare mescolando frequentemente a questo punto mettiamo un po' di pepe e il sale abbassiamo la fiamma mescolato e poi copriamo con il coperchio e facciamo cuocere a fiamma bassa per altri 10 minuti passati dieci minuti togliamo il coperchio mescoliamo e a fiamma bassa facciamo cuocere per altri 5 minuti senza coprire giusto per far asciugare un po' ed ecco qui passati 5 minuti spengo la fiamma ultima mescolata e vado a mettere in un piatto da portata per farle intiepidire guardate che belle ovviamente che assaggio con voi su un pezzettino di pane devo dire che sono una vera scoperta sono buone 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 le farò sicuramente altre volte voi se le fate fatemi sapere che cosa ne pensate tramite commenti qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like condividetelo se siete su youtube iscrivetevi al canale oppure seguitemi su facebook ciao a tutti e buon appetito